Se parliamo di scompenso cardiaco avanzato biventricolare, sicuramente il trapianto di cuore rappresenta l'unica scelta terapeutica, perché pensando ai sistemi di assistenza meccanica al circolo al momento non abbiamo un cuore artificiale totale che oltre a garantire la sopravvivenza dei pazienti possa garantire un'adeguata qualità di vita tanto quanto viene garantita dal trapianto di cuore. Se pensiamo invece a uno scompenso cardiaco monoventricolare segnatamente del ventricolo sinistro, allora abbiamo un'altra arma che è rappresentata dai VAD, dai sistemi di assistenza ventricolare, che possono essere utilizzati non solo come ponte al trapianto cardiaco, ma anche come sostituto alternativo al trapianto cardiaco. Distinguiamo un percorso post-operatorio in acuto, quindi immediatamente dopo l'esecuzione del trapianto di cuore naturalmente risentirà non solamente dell'intervento cardiochirurgico in sé, ma delle condizioni cliniche con le quali il paziente è arrivato al momento del trapianto. Quindi un trapianto condotto in condizioni di urgenza e emergenza naturalmente pagherà nell'immediato periodo post-operatorio la disfunzione multiorgono che accompagna spesso questi pazienti. Se invece pensiamo alle gestioni del paziente più tardiva nel follow-up, chiaramente entrano in gioco le complicanze e gli effetti collaterali della terapia immunosoppressiva e di questo naturalmente il paziente, soprattutto nella seconda decada di vita, ne risente in maniera significativa. I pazienti affetti da disfunzione isolata del ventricolo sinistro, che quindi possono essere candidati all'impianto di un LVAD risentono anch'essi nell'immediato periodo post-operatorio delle condizioni legate al timing all'impianto del VAD e quindi in condizioni di elezione naturalmente avremo un posto operatorio meno turbolento, mentre in condizioni di urgenza e emergenza avremo un posto operatorio che risente naturalmente della disfunzione multiorgono. Per quanto riguarda invece i periodi più lunghi, sia che sia utilizzato come ponte al trapianto di cuore, sia che sia utilizzato come destination therapy, come terapia alternativa al trapianto di cuore, perché il paziente presenta delle controindicazioni che non consentono il trapianto, naturalmente dovremmo gestire il cuore in situ e quindi anche la funzione ventricolare destra, oltre che la gestione di tutta la terapia anticoagulante che richiedono i VAD attualmente e soprattutto anche il rischio di complicanze infettive legate alla presenza del cavo di connessione alle batterie e all'unità di controllo. Se pensiamo al numero di impianti che si effettuano in Italia rispetto ad alcuni paesi europei, ad esempio la Germania, è naturalmente drammaticamente sottutilizzata. Quello che colpisce molto è il fatto che l'Italia è ai primi posti in Europa per il numero di Mitra clip impiantate ed è agli ultimi posti in Europa per il numero di VAD impiantati, il che è una contraddizione in termini, perché sono delle scelte terapeutiche che vanno ad affrontare lo scompenso cardiaco avanzato e dunque questo può trovare una giustificazione non solamente dal punto di vista economico, ma di prospettiva terapeutica offerta a questi pazienti da parte della componente cardiologica e quindi forse bisognerebbe incidere un pochino di più nel formare ed educare i nostri colleghi cardiologi ad identificare l'impianto dei VAD come un'opportunità terapeutica che non può essere negata ai nostri pazienti.